Allo spirito è davvero di una ripartenza che ormai è un termine anche un po' abusato, però è una ripartenza vera perché a Rimini già dalla Pasqua in avanti, passando per la Donata Nazionale degli Alpini, passando per il Festival del Wellness in Fiera, c'è stato un afflusso di persone straordinario, davvero ne avevamo bisogno, Rimini è una città che vive di turismo, che ha nel turismo una delle sue componenti fondamentali e quindi tornare a vedere la città che si riempie di visitatori è per noi molto importante, almeno torna nella sua location originale, da dove tutto è partito, nella zona mare, ma ci saranno anche tanti elementi di novità, in primis la tematizzazione sul Mediterraneo, che è un nostro bacino comune di convivenza tra popoli, culture e credo che sarà anche il modo per assaggiare le prelibatezze della cultura enogastronomica, appunto diffusa su tutto il Mediterraneo.